Una sconfitta, la tua idea su questa partita? Una partita difficile, combattuta a centrocampo, loro comunque sono una buona squadra, lo sappiamo, lo sapevamo. Sono stati bravi a fare gol su palla nativa, alla fine le partite su questi campi spesso vengono decise su questi episodi. Noi abbiamo fatto una sciocchezza su quell'azione, ci sono stati diversi errori personali e l'abbiamo pagata. La tua condizione fisica, hai avuto un turno di riposo all'Ugano, oggi sei tornato dal primo minuto. Sì, stiamo bene, comunque veniamo da un momento positivo, è vero, adesso abbiamo avuto due battute d'arresto, però bisogna anche ricordarsi sempre quello che si è fatto di buono e niente, dimentichiamo tutto e ripartiamo lunedì a mille per la prossima partita. Riguardo al futuro, tu sei in scadenza, giusto? Sì, esattamente. Quindi hai già parlato, sai già qualcosa? No, 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 la società ha detto che parlerà a metà maggio con tutti i giocatori e si dovrà. Però l'intenzione tua sarebbe? Beh, a me piacerebbe rimanere, però bisogna essere in due.